Tempi duri mettono a repentaglio gli obiettivi stessi del progetto europeo. Riuniti a Roma, dove nel 57 venne firmato l'omonimo trattato all'origine dell'Unione Europea, i ministri degli esteri dei sei paesi fondatori hanno lanciato un appello a mettere da parte gli egoismi nazionali e fare fronte comune contro le molteplici sfide di oggi. Non c'è dubbio che oggi l'Europa attraversa uno dei momenti più difficili dei suoi quasi 60 anni di progetto nell'incrocio tra i flussi migratori, le minacce terroristiche, la sfida posta dal referendum nel Regno Unito e il protrarsi delle conseguenze della crisi finanziaria ed economica. Tra gli strumenti menzionati dalla dichiarazione finale per preservare lo spirito del Trattato di Roma, il potenziamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione. Impensabile, ha detto Gentiloni, che iniziative di singoli stati minaccino decenni di traguardi comuni.